Il 2 ottobre 1608 gli stati generali d'Olanda esaminarono la richiesta di brevetto per un dispositivo per osservare a distanza avanzata da tale Hans Lippershey, uno scuro occhialaio di Middelburg nell'Olanda sud-occidentale. La notizia della nuova invenzione si diffuse rapidamente nel resto d'Europa e già nell'aprile del 1609 piccoli cannocchiali della lunghezza di una trentina di centimetri erano comunemente in vendita presso le botteghe degli occhialai a Parigi e presumibilmente a Londra. In Italia il nuovo strumento fece la sua comparsa a Milano nel maggio dello stesso anno e pochi mesi più tardi a Roma, Napoli, Padova e a Venezia dove fra Paolo Sarpi, amico di Galileo, ne aveva avuto notizia fin dal novembre 1608. Galileo realizzò il suo primo cannocchiale capace di tre soli ingrandimenti nell'estate del 1609. Galileo ha avuto notizia che in Olanda è stato creato un occhiale che permette di vedere ingranditi gli oggetti lontani, se ne fa mandare uno e lo perfeziona, pur non conoscendo in dettaglio le leggi dell'ottica. Costruisce lui le lenti e costruisce in particolare due tipologie di lenti, una lente piano conversa e una lente piano concava, partendo da dischi di vetro piatti. Queste due lenti hanno due caratteristiche diverse. La prima è una lente convergente, la seconda è una lente divergente, quindi la lente convergente tende ad avvicinare i raggi di luce, la lente divergente tende ad allontanarli. Galileo empiricamente applica queste due lenti, di cui qui abbiamo due esempi, la lente convergente e la lente divergente, all'estremità di un tubo di lunghezza regolabile e per tentativi riesce a capire che questo dispositivo gli permette di ingrandire gli oggetti lontani. Ne capisce immediatamente le potenzialità, sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista militare presenta l'oggetto al Doge di Venezia, portandolo sulla sommità del campanile di San Marco e facendogli vedere l'ambiente circostante e gli spiega che se uno montasse questo tipo di dispositivo sulle navi avrebbe un indubbio vantaggio, riuscendo a vedere prima di quanto i nemici riescano a vedere la flotta veneziana. Il Doge si convince e dà a Galileo una gratifica. Però poi la cosa importante è che Galileo capisce anche l'importanza scientifica di questo strumento, punta il suo cannocchiale verso il cielo e fa scoperte sensazionali per la storia dell'astronomia. In novembre, Galileo disponeva di un cannocchiale capace di ben 20 ingrandimenti, cioè di gran lunga più potente di tutti quelli all'epoca circolanti in Europa, i quali utilizzavano comuni lenti da occhiali di bassa qualità. Gli strumenti approntati da Galileo avevano prestazioni nettamente superiori al cannocchiale, ad esempio da sei ingrandimenti, col quale l'inglese Thomas Harriot aveva eseguito nel luglio del 1609 osservazioni e disegni della superficie lunare. Grazie alla potenza del suo strumento, Galileo ottenne risultati straordinari nelle osservazioni della Luna.